Una circolare urbana da Subbiano a Castelnuovo è questa l'importante novità del trasporto pubblico locale del comune di Subbiano partito in questo 2024 che è stato presentato ai cittadini insieme a TM che ne è il gestore. Abbiamo riorganizzato il servizio insieme al nuovo gestore che è TM e chiaramente abbiamo riorganizzato ottimizzando anche le tratte che dobbiamo percorrere. Noi avevamo già cominciato l'anno scorso ad aprire le porte al trasporto scolastico rendendo quindi i pullman utilizzabili non soltanto dai ragazzi che andavano a scuola ma anche da tutti gli utenti aventi appunto un titolo di viaggio. Gli accompagnatori sono garantiti, sono obbligatori per la scuola dell'infanzia ma il comune di Subbiano li garantisce anche per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. E una novità per Subbiano sarà la linea bianca che coprirà il territorio comunale al di fuori dell'orario scolastico e quindi collegherà la zona di Castelnuovo alla zona del gala, del supermercato transitando per il centro del paese e transitando per la zona del Carrefour. Quindi un collegamento dei servizi essenziali. Una circolare in tetto, quello che probabilmente mancava perché comunque i collegamenti attivi alla fine erano maggiormente gli scolastici, dalle frazioni si scendeva per venire a scuola o per andare al treno. Invece ci sarà un servizio a disposizione anche della comunità più grande, dei cittadini più grandi ma anche penso ai ragazzi di 13, 14, 15 anni che vorranno andare al supermercato da sole che vorranno arrivare nella zona di Castelnuovo a farsi un giretto in piena autonomia e con l'abbonamento scolastico e quindi col biglietto pagato già in tasca.